Esame Feldieboli per la Sandra Bate, la squadra di mister Piero Basile a questa sera alle 20.30 scenderà in campo al Palasele per affrontare la formazione salernitana campione d'Italia. La cinquina, rifilata venerdì sera al Pesaro, è stata già accantonata per rivolgere tutte le attenzioni alla gara di questa sera. Il risultato, ottenuto nel match di venerdì scorso, è stato utile a dare maggior fiducia agli ilpini che ora possono giocare con maggior consapevolezza. Il turno infrasettimanale è propedeutico alla gara che si disputerà al Pala del Mauro contro Catania. La classifica è corta e passi falsi sono vietati. Stasera non è solo un derby, ma un vero e proprio spareggio per la posizione play-off. Alla vigilia della gara ha suonato la carica in laterale Gennaro Galletto. Arriva una partita importante come tutte le partite a quella fine. La squadra sta bene, siamo in fiducia, veniamo da un'ottima vittoria casalinga. E questo ci dà coraggio e forza per andare in casa dei campioni d'Italia e fare una partita all'altezza. Le due formazioni si trovano appaiate a quota 35 punti ed è un match chiave per il posizionamento in vista della post-season. All'andata, peraltro, l'Eboli espugnò il Pala del Mauro con il punteggio finale di 3-1 ed ora i salernitani sono reduci da un prezioso 2-0 ottenuto sul campo dell'Ecosidi Genzano. Il cammino è lungo, ma la Sandra Bate vuole raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile. Squadra che potrà contare anche sul rientro di Lorenzo Ezzi, che tornerà a disposizione dopo quasi un mese di assenza. Il cammino è un'ottima vittoria